Ma sono le 20 e 43 minuti ed è arrivato il momento del nostro approfondimento. C'è un'iniziativa molto interessante che sta portando avanti all'Aquila il GSSI, il Gran Sasso Science Institute. Si tratta del maggio del GSSI per le scuole. 12 appuntamenti sulle frontiere della conoscenza, pensati per gli studenti delle scuole superiori, dai misteri dell'universo alla matematica di Google, fino alle epidemie. Lezioni che si tengono più o meno quotidianamente. Domattina, per esempio, ce n'è una molto interessante tenuta da Fabiano Compagnucci, che è un ricercatore in economia applicata proprio al GSSI, che è in collegamento con noi. Compagnucci, buonasera. Buonasera a voi. Dicevamo, domani, una lezione molto interessante che lei terrà per i studenti delle scuole superiori dal titolo Covid-19 e sostenibilità ambientale. Un tema che ci sembra molto vasto e dunque la prima domanda è che taglio darà la lezione di domani, su che cosa si concentrerà in particolare. Esattamente, è un tema molto vasto, quindi ho progettato la lezione, se così possiamo chiamarla, in due parti fondamentalmente. In una prima parte ho intenzione di analizzare in prospettiva storica il rapporto fra popoli, culture, clima e ambiente. E mostrando, durante questo escursus storico, esempi di civiltà che ce l'hanno fatta e esempi invece di civiltà che hanno collassato. Civiltà che hanno collassato, come ad esempio la civiltà maya, la civiltà dell'isola di Pasqua, i vichinghi in Groenlandia. Semplicemente analizzando, rispetto a queste civiltà che sono collassate, i fattori di insuccesso. Questi fattori di insuccesso, se li andiamo a elencare, vediamo che sono sinistramente comuni a molti fattori che stanno condizionando il nostro attuale modello di sviluppo. Fondamentalmente il degrado ambientale, un certo tipo di atteggiamenti culturali, il danno ecologico. Quindi in questa prima parte daremo una definizione di sostenibilità economica e daremo anche una misura della sostenibilità economica in Italia e in generale a livello globale. Quindi questo è per fissare il lessico comune. Nella seconda parte analizzeremo invece le relazioni fra crisi ecologica e sostenibilità ambientale da una parte e pandemia dall'altra. Considerando tre dimensioni temporali, un prima, un durante e un dopo. Un prima perché se guardiamo retrospettivamente, vediamo che dal 2000 e quindi negli ultimi 20 anni ci sono stati, compresa l'attuale Covid-19, quattro episodi di epidemie. Epidemie, la SARS, la MERS, l'influenza suina e il Covid-19. Tutte queste malattie hanno un'origine animale. Il modello di sviluppo ha portato a un consumo di carne anche da paesi che prima non ne consumavano quanto ne stanno consumando adesso, come la Cina e l'India, e quindi alla necessità di impiantare delle mega fattorie dove si allevano centinaia di migliaia di animali. Questo naturalmente fa sì che aumenti la probabilità di spillover di virus dagli animali agli uomini. Ma c'è un ulteriore elemento. Siccome queste mega fattorie si stanno sviluppando in paesi quali la Cina, l'Africa o il Brasile, e molto spesso vengono localizzate a ridosso delle foreste vergini, dunque c'è un ulteriore problema, ossia il passaggio da specie selvatiche a specie allevate e poi all'uomo. Quindi questo è il prima. Un durante, c'è una correlazione fra crisi ambientale e pandemia, ormai molti studi la stanno analizzando e certificando sul fatto che naturalmente con il degrado ambientale influisce negativamente sulle condizioni di salute degli individui, in primo luogo. E in secondo luogo ci sono degli studi particolari legati all'Italia che evidenziano come la presenza di polveri sottili abbia fatto da veicolo al Covid, quindi lasciandolo per più tempo in sospensione nell'aria e consentendogli di spostarsi per raggi maggiori di spostamenti. Il che spiegherebbe diffondersi del contagio in alcune zone in particolare, penso alla pianura padana, al Bergamasco, al Bresciano e non per dire nelle aree interne dell'Appennino come per esempio l'Aquilano. No, precisamente, esattamente le conclusioni, per ora ci sono degli studi pubblicati, quindi c'è un'evidenza scientifica effettivamente. Quindi questo per quanto riguarda il durante, però molto importante, e sono contento di questa lezione, di questo incontro con i ragazzi delle scuole superiori per il dopo. Effettivamente si sta già parlando di abbandonare le misure ambientali che le imprese devono seguire nella fase di rilancio, si sta pensando di rinviare il Green New Deal europeo. Ora, io ritengo che questo tipo di acceggiamento da parte di alcuni paesi in particolare sia molto pericoloso e sia un po' dare un altro colpo di accetta al ramo in cui siamo seduti e che non è così stabile. Ecco, compagnucci, proprio questo volevo domandarle, visto che lei parlava anche di altre pandemie, di altre epidemie, quelle recentissime e non solo che in qualche modo hanno stravolto il modo di vivere delle comunità. Volevo chiederle, in questi casi, che cosa succede? C'è davvero la possibilità che ci sia un cambio di paradigma? Perché appunto ci si rende conto di quanto alcune scelte influenzino poi la diffusione o meno di determinate epidemie e pandemie? Oppure c'è il rischio addirittura che certi modelli arrivino a stringersi ancora di più per mantenere per quanto possibile lo status quo, peggiorando poi la situazione? Guardi, cogli esattamente il punto. Ci troviamo di fronte a una possibile biforcazione. E esattamente le due traiettorie che possiamo seguire sono quelle che lei ha descritto. Ci sono delle notizie positive. Ad esempio in Cina è di molto calata il consumo di carne, che, come dire, la cui domanda eccessiva ha fatto in modo che si creasse una pressione eccessiva sull'ambiente e che fosse favorita, come dire, in qualche modo il passaggio, lo spillover fra animali e uomini. Quindi questo potrebbe essere un aspetto positivo. Ci sono poi altri aspetti negativi. Per esempio ci sono in Europa molti paesi che stanno chiedendo, come le dicevo prima, il rinvio del Green New Deal. Vi sono situazioni in cui in Cina è aumentato molto il traffico veicolare privato, in quanto la gente è logicamente timorosa del trasporto pubblico e della maggior probabilità di contatto e di contagio nei trasporti pubblici sia spostata su mezzi privati, che può avere degli effetti estremamente negativi nelle nostre città. Quindi esattamente è il tema che diceva lei. Ci troviamo di fronte ad una biforcazione, spetta a noi scegliere la strada giusta. Ecco, compagnucci, la porto leggermente fuori, ma neanche troppo, immagino, dal seminato, diciamo, da quanto racconterà domani agli studenti delle scuole superiori. Lei sta nel campo degli Urban Studies al GSSI. Domani, tra l'altro, parleremo anche del futuro delle città dopo la pandemia da Covid-19. Le chiedo però questo. Nei giorni scorsi molto si è discusso delle affermazioni dell'archistar Stefano Boeri, sulla possibilità che ci possa essere un ritorno ai borghi. Ecco, lei ce lo legge dentro quello che stiamo vivendo, la possibilità, appunto, questo ovviamente riguarda molto da vicino le aree interne dell'Appennino, che ci sia un ritorno verso i borghi che permettono un distanziamento sociale nel loro essere, che hanno delle condizioni ambientali diverse, oppure è semplicemente un miraggio quasi utopico a cui ci stiamo aggrappando in questa fase? Ma guardi, rispetto all'interessante affermazione di Boeri, ritengo che comunque Boeri stesso si riferisse soprattutto ai borghi che fanno cintura delle aree metropolitane, che sono cintura delle aree metropolitane, che quindi consentono alle classi urbane, fondamentalmente, di spostarsi a vivere nelle immediate vicinanze però delle città. Per cui, come dire, bisogna fare una distinzione fra aree interne e aree cintura delle aree metropolitane. Per quanto riguarda, come dire, quali possono essere gli effetti sulle aree interne, come dire, dal punto di vista, ad esempio, del turismo, sono sicuro che almeno in una prima fase le aree interne potranno godere di una fase positiva. Logicamente, nelle aree interne, cos'è che troviamo? Meno densità e più spazio, che in una situazione di pandemia sono degli asset veramente importanti per un luogo. E poi consideriamo anche che sono già usciti molti articoli relativi alla regionalizzazione delle attività, per cui il turismo, ad esempio, può rientrare in un'ottica di regionalizzazione delle attività e quindi, come dire, avere comunque un bacino turistico di una certa rilevanza, pronto a fruire di determinati luoghi e di determinati ambienti. Quindi, come dire, è molto difficile fare delle previsioni. Effettivamente, però, come scienziati politici, dobbiamo elencare quelli che potrebbero essere i pro e i contro del periodo post-pandemico, intervenendo poi nelle situazioni, come dire, negative e pericolose in termini di politiche pubbliche. Ecco, se dovesse indicarci, secondo lei, sebbene immagino sia presto per fare delle previsioni che abbiano un fondamento scientifico, ma se dovessi indicarci una direzione verso cui andare, quale indicherebbe? E intende? Nelle aree interne o...? No, rispetto a come affrontare il dopo della pandemia, per voi che studiate urban studies e quindi vi occupate di aree interne, di borghi e di città, su che cosa bisognerà puntare l'attenzione, secondo lei, nel prossimo futuro, anche dal punto di vista accademico? Sicuramente dal punto di vista, come dire, della pandemia, per me è molto importante e che è un problema che, come dire, ha riguardato soprattutto la prima fase della pandemia, è stato il tracciamento. Quindi, come dire, proprio questo dal punto di vista della pandemia. Quindi, come dire, in questa seconda fase sarà un aspetto che dovremo tenere in assoluta considerazione. Per quanto riguarda quello che diceva lei in relazione alle aree interne, alle città, dovremo vedere come... dovremo monitorare la situazione. Cioè, nel senso, è difficile fare previsioni adesso. Quello che posso suggerire, appunto, è che, ad esempio, sarebbe interessante creare un osservatorio che, raccogliendo i dati, monitori la situazione in itinere e, diciamo, riuscendo così anche a mettere in campo le politiche pubbliche che possono risultare necessarie in questo particolare momento di ripresa. Perché con la caduta del PIL che stiamo registrando sicuramente ci sarà un dopo che, come dire, richiederà una ripresa molto forte per riportarsi a livelli, diciamo, pre-pandemia. Grazie mille. Grazie a Fabiano Compagnucci, ricercatore di economia applicata al GSSI. A prestissimo. Grazie a voi. Buona serata. Compagnucci, che domani, come vi raccontevamo, terrà una lezione dentro un'iniziativa che il GSSI sta tenendo in queste settimane molto interessante, il maggio del GSSI per le scuole, una serie di lezioni ai ragazzi delle scuole superiori sulla frontiera della conoscenza dai misteri dell'universo alla matematica di Google, alle tematiche che abbiamo trattato stasera, ma anche il ruolo delle città, dei borghi, delle aree interne. Insomma, un esperimento molto importante, interessante, soprattutto in questo momento in cui fare scuola è, come sapete, molto complicato. Così Fabiano Compagnucci, che ci ha tenuto compagnia. e che ci ha tenuto compagnia.